Le edizioni in DVD e Blu-ray di Avengers Infinity War non sono ancora disponibili sul mercato, però, almeno negli Stati Uniti, il film può già essere apprezzato in home video grazie al digital delivery, alle copie in digital delivery appunto. Ebbene, tra i vari contenuti speciali è presente anche il commento audio dei registi I Fratelli Russo e anche il commento degli sceneggiatori della pellicola. Un commento audio che rivela tante ma tante belle cosine, tanti bei dettagli su Infinity War. E quindi, ci vorrebbe una siglettina tipo David Letterman? Ecco a voi le dieci cose che non sapevi su Infinity War. Eccole a voi. Numero 1 Valkyria e metà della popolazione asgardiana sono fuggiti prima dell'inizio del film. Perché sì, come ben vi ricorderete, all'inizio di Infinity War Thanos massacra gli asgardiani e poi fa esplodere l'astronave di Thor. Però non abbiamo visto Valkyria tra i cadaveri, non abbiamo visto neppure Korg. Più tardi nel film Thor diceva che Thanos aveva ucciso metà della sua gente, solo metà. Quindi era facile immaginare che l'altra metà si fosse messa in salvo. Ma adesso ne abbiamo avuto la conferma definitiva. Valkyria e metà della popolazione asgardiana sono salvi. Perché non ce l'hanno fatto vedere nel film? Questa è una bella domanda. Forse per risparmiare sul cachet di Tessa Thompson, un'attrice meno da pagare? Ma non è un buco di trama, per carità, ma mostrarci la scena, magari anche con un piccolo flashback più avanti nel corso del film, per non rovinare l'impatto iniziale, il modo in cui cominciava la pellicola, non sarebbe stato malaccio, almeno secondo me. Secondo me. Numero due. I responsabili del design e della CGI hanno cominciato a lavorare a Thanos ben prima di avere tra le mani la sceneggiatura del film. Per l'esattezza già due anni prima, e del resto lo sappiamo bene, se Thanos fosse risultato poco credibile visivamente, allora a quel punto l'intero film sarebbe risultato poco credibile. Io ricordo le varie ironie sull'aspetto di Thanos nei trailer, ironie che poi sono scomparsi di colpo dopo la visione del film. Nessuno si è più lamentato per il suo colorito, d'improvviso, all'improvviso, basta battute su Thanos e sul suo aspetto, perché obiettivamente nel film ha funzionato alla grande. E quindi apro una piccola parentesi. Questo è il motivo per cui faccio il puntiglioso, per cui mi incazzo così tanto per la CGI di Venom. Perché se Venom non funziona visivamente, la cosa va a discapito dell'intero film. Perché solo il protagonista, una roba da poco. Chiusa la parentesi. Numero tre. Questo è interessante. Thor è il protagonista del film. Riducendo Infinity War ai minimi termini, i due personaggi principali sono Thanos e Thor. La narrazione comincia con uno scontro tra Thor e Thanos e si conclude con uno scontro tra Thor e Thanos. Non solo. Se Thor fosse riuscito ad uccidere Thanos alla fine, se Thor fosse riuscito a colpire Thanos alla testa, avrebbe concluso con pieno successo il suo viaggio dell'eroe all'interno della pellicola. La caduta, la risalita, il riscatto. Non a caso la scena di maggior fomento dell'intero film è l'arrivo di Thor sulla terra con la Stormbringer. Quindi sì, ci sono numerose sottotrame nel film, tanti personaggi importanti, ma il più importante di tutti è senza dubbio Thor, idealmente, è il protagonista del film. Mentre Thanos è, sorpresa sorpresa, l'antagonista, perché un villain ben caratterizzato e con delle motivazioni non diventa automaticamente il protagonista di una pellicola. Thanos è l'antagonista. Numero quattro, la distruzione di Xandar era compresa nello script iniziale. La scena è stata rimossa perché secondo i russo e secondo gli sceneggiatori sarebbe risultata un po' ripetitiva, sarebbe stata un'altra scena action in un film già ricco di scene action. Anche in questo caso la scelta è legittima, ma secondo me mostrare qualche breve flash, anche molto rapido, non sarebbe stato male, soprattutto perché nel primo Guardiani della Galassia ci hanno fatto affezionare al pianeta di Xandar. È un pianeta comunque importante nell'economia del Marvel Cinematic Universe. e quindi mostrarlo devastato, distrutto, avrebbe avuto il suo impatto sullo spettatore, almeno secondo me. Numero cinque, qui c'è da divertirsi. Thanos ha cominciato soltanto adesso la ricerca delle gemme perché prima non sapeva dove si trovava la gemma dell'anima. L'ha scoperto, lo sappiamo, solo dopo aver torturato Nebula che l'ha portato a Gamora e bla bla. Perdonatemi, ma questa è davvero una fesseria. Usiamo un termine pacato. La mia critica principale ad Infinity War, che comunque mi è piaciuto moltissimo, lo sapete, è la sua mancanza di continuità narrativa con il resto del Marvel Cinematic Universe. È palese come prima di Infinity War la caratterizzazione di Thanos fosse diversa, radicalmente diversa. avevano altri progetti per lui e la ricerca delle gemme ne è la dimostrazione perché quando Thanos si alza dal suo trono impiega tipo due giorni a radunare tutte le gemme. Ci siamo chiesti un po' tutti perché non l'abbia fatto prima. E la risposta dei Russo è stata non sapeva dove si trovava la gemma dell'anima. Ok, ok. E questo? Non sapere dove si trovava la gemma dell'anima. In che modo avrebbe dovuto impedirli di radunare tutte le altre gemme nel frattempo? Cosa che peraltro l'avrebbe reso infinitamente più potente e avrebbe senza dubbio facilitato la sua ricerca dell'ultima gemma. Perché? In che modo? Anche perché forse i Russo se lo sono scordati, Thanos comincia ad interessarsi alle gemme molto prima di Infinity War. In Guardiani della Galassia stipula un patto con Ronan per trovare l'Orb, cosa assolutamente demenziale se ci pensiamo a posteriori. Poi Thanos decide di agire in prima persona ben prima di sapere dove si trovava la gemma dell'anima. Thanos era in possesso del guanto già ai tempi di Age of Ultron. Quindi spiacente, fratelli Russo, ma non mi avete convinto neanche per sbaglio. Ma proprio no! Proprio no! Questa è un po' una ciofecata spiacente. Numero 6. Chris Hemsworth potrebbe essere l'attore migliore del Marvel Cinematic Universe. Una delle scene più impattanti di Infinity War dal punto di vista emotivo è il dialogo tra Thor e Rocket, quello in cui Thor si rende conto di aver perso ogni cosa. Nel commento audio i Russo sottolineano come Hemsworth sia stato ovviamente cruciale, determinante per la buona riuscita della scena e traspare tutta la loro ammirazione nei confronti dell'attore. Non dicono chiaramente che per loro sia il migliore in assoluto, però sottolineano come soltanto lui, secondo il loro punto di vista, sarebbe stato in grado di rendere quella scena al meglio. Quindi, per i fratelli Russo, Hemsworth è l'attore migliore del Marvel Cinematic Universe? Probabilmente sì. Ovviamente nel commento audio fioccano complimenti un po' per tutti, ma su Hemsworth si concentrano in modo molto particolare e specifico. D'altro canto, ricordiamoci che per i fratelli Russo, Thor è il protagonista di Avengers Infinity War. Numero 7. Capitan America avrà un ruolo molto importante in Avengers 4. Addirittura nelle prime versioni della sceneggiatura Cap sarebbe dovuto comparire soltanto alla fine, soltanto nel terzo atto, soltanto al culmine della battaglia in Wakanda. Poi i Russo e gli sceneggiatori ci hanno ripensato, l'hanno inserito anche durante tutto il corso della pellicola e quindi il progetto è cambiato in corsa. Ma perché inizialmente avrebbero voluto farlo comparire soltanto alla fine? Perché sapevano bene che avrebbe avuto un ruolo di peso estremamente importante in Avengers 4, il che conferma che abbiamo visto un film diviso in due parti. Avengers Infinity War è la prima parte di un film diviso in due parti, perché altrimenti non avrebbero avuto senso ragionamenti di questo tipo. Il ragionamento facciamo apparire Cap soltanto alla fine perché tanto poi in Avengers 4 è un protagonista assoluto. Infinity War è la prima parte di un film diviso in due parti. Lo dico perché ai tempi mi fu detto no no, è un film stand alone, è perfettamente visionabile da solo. Sì. Numero 8. Shuri, la sorella di Pantera Nera, è la persona più intelligente del Marvel Cinematic Universe. C'era già stato detto ai tempi dell'uscita di Black Panther e adesso i fratelli russo l'hanno confermato in maniera definitiva. Non Tony Stark, non Bruce Banner, Shuri è la persona più intelligente del Marvel Cinematic Universe. Numero 9. Dopo lo schiocco delle dita, quella che vediamo nella visione di Thanos non è Gamora, o meglio, non è la vera Gamora. In tanti hanno speculato che quella fosse la vera Gamora all'interno della gemma dell'anima, che quindi in qualche modo fosse ancora viva. Ebbene, secondo i russo, quella è semplicemente una visione di Thanos, come quelle magari indotte dalla febbre, mentre abbiamo la febbre a 40 distesi sul letto quando vediamo i santi che ci parlano. Niente di più, niente di meno. Però attenzione, i russo sono gli stessi che hanno detto che la gemma dell'anima era sotto i nostri occhi per tutto il tempo. E poi in realtà era su un pianeta mai visto e non era mai stata sotto i nostri occhi per tutto il tempo. Sono gli stessi che hanno messo Hulk nella battaglia in Wakanda nei trailer. Ricordiamocelo. Numero 10. Lo schiocco delle dita ha danneggiato Thanos e il guanto in modo permanente. Quindi probabilmente in Avengers 4 lo vedremo notevolmente indebolito. Probabilmente ormai il guanto è fuori uso. Ed è una cosa che era ovviamente intuibile, ma sotto un certo punto di vista non mi aggrada più di tanto. L'idea che gli Avengers non possano sconfiggere Thanos alla piena potenza non mi gusta, per carità, bene o male, così anche nei fumetti. Ma secondo me al cinema è una cosa che funziona poco a livello narrativo. Gli eroi devono sembrare in grado di sconfiggere ogni avversità, ogni ostacolo, ovviamente attraverso tribolazioni, difficoltà, fallimenti. Ma al termine di un percorso devono emergere vincitori. Sicuramente emergeranno vincitori alla fine di Avengers 4, ma emergeranno vincitori su un nemico indebolito, palesemente indebolito rispetto al primo film. Ed è un concetto che non mi fa impazzire. Ovviamente sono speculazioni di Avengers 4, non sappiamo ancora una cippa lippa. Mi sto basando così per divertimento su ciò che hanno detto i fratelli russo nel commento di Avengers Infinity War. E queste erano le dieci cose che non sapevi su Avengers Infinity War. Sigla!